Il centro-sinistra mantiene il governo della città di Spoltore ma soprattutto elegge il primo sindaco donna della città, Chiara Trulli, che sbaraglia la concorrenza di ben tre uomini, Marco della Torre, Pierpaolo Pace e Nelson Anzoletti, con il 60% e più delle preferenze. Un grande risultato, se lo aspettava? Sì, è un grande risultato e ne siamo felici e orgogliosi. Un po' lo aspettavamo perché in questi dieci anni abbiamo costruito un bel rapporto di fiducia con i cittadini ed è stato ricambiato, ne sono felice. In queste ore ha fatto l'analisi del vuoto con i suoi alleati o si è semplicemente riposata? Siamo stati fino alle tre di notte qui in Comune a verificare i dati, un po' le preferenze, le liste e siamo contenti perché avremo una bella compagine in maggioranza e quindi ampia perché chiaramente il risultato è stato veramente positivo. Quali saranno i suoi primi passi da sindaca? Sicuramente adesso ci sarà da prendere in mano e condurre alla realizzazione delle opere importanti che sono già programmate, progettate e che quindi aspettano di venire alla luce. Ad esempio la demolizione del mammut, penso anche ai lavori per la ristrutturazione del distretto sanitario di Via del Convento, penso alla ristrutturazione dei locali in Piazza Dal Benzio e poi ai tanti servizi che noi vogliamo migliorare, alla qualità della vita dei nostri concittadini a cui puntiamo fortemente per una città più bella, più pulita, più sicura. Insomma le priorità adesso sono tante. La sua consigliatura potrebbe durare di meno perché c'è la nuova Pescara, il progetto di fusione con Montesilvano e Pescara. Potrebbe essere rinviata al 2027 ma provocatoriamente anche anticipata al 2023? Noi ecco adesso siamo in attesa della legge regionale che definisca effettivamente la calendarizzazione della nascita della nuova Pescara, quindi lavoreremo intensamente come se fosse l'ultimo giorno che i cittadini avranno di questa amministrazione. Il sindaco Trulli con la O perché lei preferisce la O, ringrazia? Ringrazio tutta la mia famiglia, ringrazio gli amici, i sostenitori, tutti i cittadini, non solo quelli che ci hanno votati, anche quelli che non ci hanno votati perché comunque chiaramente sarò il sindaco di tutti e lo farò con la stessa intensità, con la stessa dedizione che mi ha sempre caratterizzata.